Donata ai poveri una tonnellata di cibo, eccellenza del Made in Italy raccolto al mercato col diretti a Roma. Felicità Pistilli. Sono tutti quanti i barattoli di marmellate, questo è pera selvatica e mirto, quindi una cosa estremamente raffinata. Ci sono tutte le eccellenze del Made in Italy in questi scatoloni donati a Caritas e comunità di Sant'Egidio. Ci sono i salumi Umbri, le conserve, la pasta dei migliori grani italiani. 1500 chili di prodotti comprati per gli altri da chi lo scorso weekend ha visitato il mercato di col diretti a Roma. 300 stand che prima di chiudere hanno consegnato alle due associazioni questo enorme acquisto solidale. L'hanno chiamata spesa sospesa sulla scia del caffè sospeso, tradizione napoletana di lasciare al bar un caffè pagato per chi non può permetterselo. Gli stessi produttori hanno donato l'invenduto, i volontari lo daranno in beneficenza. Sulla tavola di tanti italiani poveri, famiglie italiane, anziani, stranieri, si troveranno cibi di eccellenza. Tutte cose che solitamente non si trovano nei pacchi solidali e alcuni esempi di generosità a carne di prima scelta, già destinata alla mensa del carcere romano di Re Bibbia. Tanta frutta e verdura, olio d'oliva come questo, prezzo al pubblico 24 euro al litro. Ha qualcosa di buono, ha qualcosa di privilegiato ed è molto importante perché...